Un saluto molto mondiale ai miei amici che sono qui. Credo che tutti voi sappiate che questa è la vostra casa, è la nostra casa. L'Istituto ha sempre mantenuto e mantiene e manterrà questa caratteristica di rigorosa fedeltà che richiama una storia di una sua precisa connotazione e una sua chiarissima identità e nel medesimo tempo di rigorosa attenzione a non accettare